Sembra anche da come è partito subito il Catania con 5 giocatori nella metà campo avversaria che abbia tutte le intenzioni di farsi schiacciare. Sarà una partita molto tattica di studio all'inizio e sono proprio curioso di seguirla. Scoglio ha insistito da sempre sull'aspetto del divertimento dei giocatori, ha giocato anche con un modulo molto offensivo, addirittura con tre punte e un trequartista. Oggi si schiera con un tandem e Pasino a supporto della coppia Stellone-Dionigi. Il gioco è fermo, l'intervento da parte di Marco Lin che ha fermato in maniera irregolare il movimento da parte di Martuscello. Sarà calcio di punizione per il Catania. Nel Catania una sola defezione, quella del portiere Ghezzo, c'è stato anche qualche problema con un tifoso in settimana. Al suo posto Sanzonetti fra i pali è l'unica novità vera per il Catania. Attenzione ad Oliveira, tentativo di scambio e l'intervento falloso. Sarà calcio di punizione, una posizione interessante, Marco Lin non è convinto. Ma secondo me ci stava, una bellissima giocata rapida, 1-2 cercato da Oliveira. Marco Lin probabilmente sulla corsa ha contrastato Oliveira, l'ha fatto cadere. Una posizione veramente interessante. Ha conferma che quello che ho detto prima, il Catania vuole immediatamente rispondere a un eventuale approccio positivo da parte del Napoli verso la partita. E allora andiamo a seguire il calcio di punizione per il Catania, mentre le nostre telecamere ci hanno mostrato la splendida coreografia della curva B. Ma adesso seguiamo il gioco, c'è Mancini, pronta a dare indicazioni ai suoi. Tutto il Napoli con l'eccezione di Dionigi a difesa dei propri 16 metri. Grieco calcia bene, Grieco è uno che calcia molto bene le punizioni. Grieco e Jacopino sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Vedremo chi partirà ancora qualche istante. Sarà probabilmente Grieco che parte con il destro. Conclusione, pallone che termina al lato di un soffio. Mattia Brivido, Maurizio. Bellissima calciata molto bene, leggermente laterale, però era all'altezza giusta e aveva la forza giusta. Probabilmente se fosse esatta nello specchio della porta Mancini, anche se ha compiuto un grande gesto atletico, probabilmente non sarebbe rievato. Eh sì, dunque, primo brivido, primo squillo della gara ed è rosso-azzurro con la conclusione davvero molto interessante. Il pallone che è terminato al lato di un soffio da parte di Grieco che ci tiene particolarmente bene a fare una buona gara. Ha anche espresso il suo rammarico per la partenza di Gatti, ma si è detto assolutamente convinto del progetto societario. Pallone che arriva dalle parti di Sanzonetti. Il suo rinvio è possibilità per il Napoli che può provare a spingere. Tentativo di suggerimento a cercare il movimento da parte di Dionigi. Spalla la porta, difende questo pallone, lo fa girare. Poi però c'è il recupero, Taldo ha dato una mano in fase di interdizione. Si continua a lottare su questo pallone. Mi sembra che ci sia una buona intensità. È chiaro una valutazione preliminare, sono passati tre minuti. Però mi sembra che ci sia da una parte e dall'altra un buon tasso agonistico. Sicuramente sì, è una partita come abbiamo detto importante. C'è tanta gente allo stadio per cui tutti i giocatori hanno la giusta concentrazione, la giusta motivazione per far bene. Il Catania è partito abbastanza offensivo. Si schiera con un centrocampo molto ridotto. In pratica c'è solo due giocatori a centrocampo che sono Greco e Martuscello. E gioca in questi primi 4-5 minuti con 4 in fase offensiva. Oliveira e Taldo centrali, Fini a destra e Jacopino a sinistra. Intanto il numero di Oliveira che poi ha girato questo pallone verso Fini. Tentativo di suggerimento dentro. Poi il pallone che viene spazzato via. Aveva fatto un numero davvero da alta scuola. Oliveira, Stellone che riesce a difendere questo pallone anticipando. Monaco, poi il recupero da parte di Grieco. Poi in difficoltà arriva il fisico arbitrale. Sarà calcio di punizione per il Catania. Io ne approfitterei per andare a bordo campo. 4 minuti di gioco. Prima indicazione di due tecnici. E anche magari qualche notizia in più, qualche sensazione in più sull'atmosfera davvero suggestiva del San Paolo stasera da Paolo Assone. Tecnici, tecnici a dire il vero molto silenziosi fino a questo momento. Ti posso dire una cosa. I giocatori del Napoli sono entrati in campo e forse per la prima volta in questa stagione hanno dato un'occhiata alla curva e sono rimasti a bocca aperta. Eravamo venuti altre volte qui e abbiamo visto lo stadio semivuoto. Adesso molto probabilmente una nuova carica dopo la vittoria col Messina e col nuovo entusiasmo del San Paolo. Eh sì, effettivamente è una valutazione importante. Convolgo Maurizio, credo che sia davvero se non decisivo ma insomma estremamente utile per i giocatori avere un ambiente fondamentale per qualsiasi giocatore avere il supporto della propria tifoseria. In particolar modo quando sei abituato a non averla più, trovarti uno stadio così imponente, quasi pieno e una tifoseria come hai detto te, coreografica, rumorosa, molto passionale, deve darti e ti dà solitamente qualcosa in più. I giocatori del Napoli devono cercare di sfruttare. Attenzione, sì perché c'è la possibilità con il pallone che arriva in mezzo, buona iniziativa da parte di De Martis. È arrivata comunque la chiusura, adesso Marco Lim può provare ad uscire. Lex Doriano, pallone servito ben in avanti, prova a spingere il Napoli. Qui il tentativo di verticalizzazione però è davvero troppo profonda e non ci sono allora difficoltà per Salvatore Monaco che lascia sfilare questo pallone. Cercava il suggerimento verso Pasino. Ma nella circostanza l'idea poteva anche essere buona l'esecuzione, davvero no. Sì, assolutamente no. In questi primi minuti sto vedendo una cosa che mi sta lasciando un pochettino perplesso. Si è già creata stranamente, a differenza di tante partite, una spaccatura enorme in mezzo al campo. Squadre lunghe. Sì, squadre lunghe perché gli attaccanti del Napoli non rientrano mai e Pasino gioca molto lontano e solo in mezzo al campo. E idem i quattro dell'attacco del Catania. Proviamo a seguire l'iniziativa da parte di Bocchetti che prova ad andare in mezzo. Pallone interessante, c'è anche Stellone, poi arriva la chiusura regolare secondo il direttore di gara anche se sentirete le proteste dei tifosi del Napoli. Poi Gennaro Monaco ha lavorato bene questo pallone, ha riaperto. Adesso c'è la possibilità per Zeoli che va a cercare in profondità Oliveira. Buono l'anticipo, gran senso della posizione, della circostanza per Marcolin. Alla fine in qualche modo si riesce ad evitare anche il fallo laterale. Il pubblico del Napoli prende coraggio. Adesso Marcolin si rischia anche qualcosa. Poi ancora il tentativo di profondità a cercare il movimento di Dionigi. Quindi pallone spazzato via, si va a cercare subito il movimento di Taldo sull'altro fronte. L'intervento a chiudere però, forse anche con il braccio. In questa occasione si lamenta Taldo. Gabriele ha lasciato proseguire. È una partita dai ritmi alti, da anche agonistica, molto combattuta. Le squadre non si stanno assolutamente risparmiando. Arriva a recuperare questo pallone Fini. Va a mettere in movimento Oliveira. Poi per il due a chiudere. Alla fine però l'intervento è irregolare. Stiamo rivenendo. Baldini e Bocchetti alla caccia di questo pallone. Probabilmente l'arbitro ha fischiato il due contro uno, anche se personalmente non mi è sembrato così falloso l'intervento. Vediamo. Questo era l'intervento precedente di Salvatore Monaco. Che dici Maurizio? Non ha stoppato bene la palla Stellone. Probabilmente è stato leggermente strattonato. Ha perso completamente l'equilibrio. È caduto per terra. Secondo me non c'era però il fallo, il calcio di rigore. Andiamo a seguire questa nuova possibilità per il Catania. 7 minuti e 20 sul cronometro del primo tempo. La battuta di questo calcio di punizione da parte di Grieco. Pallone che viene fatto girare nella zona di Zeoli. Prova ad andare Zeoli. Poi il tocco per lino orizzontale verso Martuscello. Ancora Grieco. C'è il larghissimo De Martis. Però rimane da quelle parti. E soltanto adesso va a servire il laterale di destra a Grieco. De Martis aggancia bene questo pallone. Possibilità di uno contro uno. C'è Bocchetti sul suo lato. Prova ad andare. Vediamo se va al cross con il destro. Alla fine si procura comunque una deviazione. Sì, si procura una deviazione. Ma aveva tutto lo spazio per poter calciare. Non l'ha fatto. Ha preferito affondare. Però avrebbe potuto. Aveva il corpo e lo spazio per mettere un pallone invitante in mezzo all'aria. Ha battuto la parte di De Martis. L'intervento a chiudere. Poi conclusione francamente inguardabile. La parte di Oliveira che ha avuto subito l'istinto del goleador di andare subito al tiro. La posizione era molto difficile. La conclusione non all'altezza. Noi ne approfittiamo per andare a bordo campo. Paolo Assogna. Sì, ormai qualche minuto fa c'era stato un durissimo faccia a faccia tra Monaco e Dionigi. Così si spiega poi il successivo intervento di Gabriele che è andato a fare il chiarimento che poi ha calmato gli animi. Ma stavano quasi venendo alle mani dopo che c'era stato quel, non so se probabile, rigore nell'area di rigore del Catania. E' uno scontro molto molto duro tra i due. E' un'ulteriore dimostrazione del tono agonistico elevato che c'è in campo mentre De Martis è pronto alla rimessa laterale per il Catania. Pallone di cercare Oliveira. Riesce solo a sfiorare. Poi c'è l'intervento da parte di Baldini. Poi un nuovo colpore di testa di De Martis. Marcolin che lotta su questo pallone cercando di contrastare Oliveira. Vediamo cosa decide Gabriele. Si riprenderà con il calcio di punizione per il Napoli. Buona partenza da parte di Marcolin dopo nove minuti. Giocatore che può dare molto dal punto di vista della geometria, del senso della posizione e dell'esperienza. Sicuramente sì e deve dare di più. E' stato acquistato proprio in funzione di dare geometria al reparto offensivo soprattutto nella prima linea di centrocampo. Il centro mediano metodista è l'uomo che deve dettare i tempi proprio per far volare i tre davanti. Pasino, Stellone e Dionigi. E' un giocatore che lo può tranquillamente fare perché oltre alle sue capacità credo che dentro di sé abbia molta voglia di riproporsi nel calcio che conta. Viene da stagioni non entusiasmanti, non brillantissime. Ha un palcoscenico a disposizione importantissimo come quello di Napoli. Non può assolutamente fallire. Possibilità per la formazione partenopea al pallone. a cercare il movimento di Stellone. Poi però c'è la lettura intelligente da parte di Monaco. Ovviamente Salvatore Monaco. Quindi sia qualcosa il Catania. Poi De Martis sulla pressione di Stellone. Allora attenzione a Marcolino che ha recuperato questo pallone. Prova a servire ancora Stellone. Pallone che termina il pallo laterale. Ma è arrivato Gabriele da quelle parti. Altro intervento piuttosto deciso su Marcolino. Stiamo rivedendo. Si è entrato deciso Martuscello credo su Marcolino. Gabriele ha aspettato... Ha guardato dove finiva il pallone. Probabilmente ha aspettato che lo prendesse Stellone. Così non è stato. E ha fischiato una punizione da una buona posizione. Il Napoli credo sia Dionigi sul pallone. Eh sì bisogna andare a seguire questo calcio di punizione per il Napoli. Ha una possibilità interessante. C'è anche Pasino ovviamente in acquato. È già stato ribattezzato Zola Biondo. Siamo pronti sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Ci sono cinque giocatori del Catania. La conclusione con il destro. E la risposta da parte di Sansonetti. Grande intervento da parte di Sansonetti. Che da dunque subito un segnale importante. Pienamente in partita. Conclusione davvero molto insidiosa. Molto bella. Tagliata forte. La palla si è abbassata. Sono palle difficili per i portieri. Probabilmente finiva fuori ma ugualmente pericolosa. E Sansonetti ha risposto positivamente. Grande punizione di Dionigi. Grande pallone di Sansonetti. Nuovo cross. Pallone messo in mezzo. Una Marcolin. Rischia qui il Catania. Attenzione. Mischia fuori in bonda. Poi pallone che viene spazzato via. Non è finita ancora. Prova ad arrivare Marcolin. L'uno contro uno con Oliveira. C'è un giocatore del Napoli. Fermo a terra al centro dell'area di rigore. Ecco qui le nostre telecamere che vanno a inquadrare. La maglia numero 20 di Savino che aveva seguito l'azione offensiva del Napoli. Altra situazione molto interessante all'area di rigore del Catania. Stiamo rivedendo l'intervento di De Martis. Il contrasto con il numero 20 del Napoli. Assolutamente volontario però. Assolutamente volontario. Mentre qui c'è un calcio di punizione però fuori area per la formazione partenopea. La partita di grande tasso agonistico fino a questo momento. 12 minuti. È pronto Dionigi. Sul punto di battuta. Stavolta più decentrato. Difficilmente ci saranno soluzioni alternative rispetto al cross. A cercare magari di ispirare la testa di Stellone. C'è anche Virigal al centro dell'area di rigore. Vedremo se andrà Dionigi con il destro. Proprio così. Poi invece ha cercato l'effetto sorpresa. Lo stesso angolo che aveva cercato di trovare un paio di minuti fa. Conclusione stavolta la dimenticata. Assolutamente sì. È grandissima occasione sprecata. Non condivido questa scelta. Ci ha tentato. Viaggiava sulle ali dell'entusiasmo della punizione di prima. Però avrebbe potuto calciarla forte in mezzo. Perché queste sono punizioni pericolose. Dove anche il minimo tocco può diventare gol. L'intervento da parte di Sanzonetti protetto bene da Salvatore Monaco. Nessuna difficoltà per il suo recupero e il Catania potrà dunque ripartire. Bellissima parata da parte di Sanzonetti un paio di minuti fa sulla conclusione violenta e precisa di Dionigi. Va a cercare Taldo. Poi pallone dalle parti di Oliveira. Baldini in anticipo. Napoli che prova ad uscire. Vediamo se c'è la possibilità per Bocchetti di servire. Giocatori avanzati. Arriva comunque la chiusura puntuale da parte di Grieco. Il Catania deve rubare palloni lì perché se viene superata la barriera di Grieco e Martuscello c'è immediatamente uno spazio enorme a disposizione. Ci sono solo tre difensori in linea che possono difendere. Arriva il nuovo intervento arbitrale per il fallo su Dionigi. Possibilità ancora con il cross in mezzo. Rischia ancora la difesa del Catania. Non è finita l'azione. Possibilità ancora per Bocchetti che prova il cross. C'è la deviazione. Non può evitare il calcio d'angolo Sanzonetti. Il Napoli adesso sta spingendo sull'acceleratore. E qui buono anche il movimento da parte di Bocchetti che ha trovato il calcio d'angolo nella parte finale dell'azione. Già pronto Marcolin. Secondo tiro della bandierina. 14 minuti. Sempre 0-0. Partita intensa. Pronto ad andare Marcolin. Con sinistro. Pallone messo in mezzo. Poi viene allontanato. Occhio alla conclusione con il sinistro che termina però altissima la parte dello stesso Bocchetti. E' un Napoli che sta crescendo dopo un buon inizio da parte del Catania. Soprattutto sotto l'aspetto della personalità. Ora il Napoli sta crescendo. Sta cercando di essere in pericoloso. Mi sembra che Pasino abbia moltissima libertà d'azione. E in precedenza ha fornito una palla in mezzo all'area bellissima. Dove Stellone non è potuto arrivare. Però è un giocatore che sicuramente può mettere in difficoltà la squadra del Catania. Perché non ha... Sta giocando completamente libero. Cioè l'uomo più vicino solitamente si trova a 5-6 metri. Attenzione perché qui Fini stava dando fastidio e molto al possesso di palla del Napoli. Al recupero la parte della difesa partenopea. Arriva comunque la segnalazione del fallo su D'Angelo. Possibilità per il Napoli. Devo bordo campo da Paolo Sogna. In merito alla posizione di Rubens Pasino, Scoglio gli ha detto di non stare troppo centrale. Ma gli ha detto di alternare le posizioni. Dunque, come diceva Maurizio, a sinistra, a destra. Ma non fare il punto di riferimento centrale dietro i due attaccati. Luole libero ma soprattutto che vada a fare superiorità numerica sulle corsie esterne. Ha perfettamente ragione Paolo perché il Catania ha un centrocampo a due. I due centrali sono Grieco e Martuscelli. Martuscello solo loro e quattro davanti. Sui laterali c'è sempre tantissimo spazio a disposizione. Scoglio probabilmente, sicuramente l'ha notato e sta invitando Pasino a spaziare da una parte all'altra. Insomma, una chiave può essere il sovrannumero sulle fasce laterali per il Napoli. Andrà a cercare il 2 contro 1 con la possibilità quindi per la sovrapposizione proprio perché il Catania mette proprio i uomini migliori, quelli che fanno meglio l'interdizione della parte centrale lasciando volutamente un po' scoperte le fasce laterali. Possibilità per questo pallone profondo a cercare il movimento di Dionigi. Buono l'intervento di testa, prova ad arrivare Mitigal. Non è finita, anzi sì perché c'è il fischio da parte di Gabriele su segnalazione del proprio collaboratore. Non è particolarmente convinto il giocatore con la maglia numero 4 del Napoli. Che dici Maurizio? È saltato, sicuramente non voleva fare falle. È saltato, ha guardato solo la palla. C'è stato un contrasto. L'arbitro probabilmente ha visto il braccio sinistro alzato di Digal ha fischiato ma secondo me il giocatore portoghese non voleva commettere il fallo. Voleva solo e esclusivamente prendere il pallone. Non c'era assolutamente cattiveria. Baldini, vado anche a prendersi il fallo. Particolarmente piccato Taldo. Una serie di interventi irregolari che siamo stati fischiati a lui e ai suoi compagni in fase d'attacco. Il Napoli prova ad uscire. La battuta profonda, a cercare il movimento di Stellone. ha provato a smistare Grieco. Grande stagione lo scorso anno con il Modena. Va a cercare il movimento da parte di Oliveira. Taldo che prova a lottare su questo pallone. Buon intervento da parte di Marcolin. Possibilità per il Napoli con Bocchetti. Attenzione al movimento di Bocchetti. Pasino è andato in mezzo. Bocchetti prova il cross dei Martis che riesce a toccare. Catania che deve riuscire a venire fuori. Bocchetti invece lavora benissimo questo pallone. Sanzonetti lo può raccogliere. È andata in difficoltà già due o tre volte nei recuperi sulla propria tre quarti la formazione ospite. Anche in questa circostanza poteva spazzare prima e meglio il pallone. Sicuramente sì, ma credo che col passare del tempo secondo me avrà ancora più problemi. Perché ripeto, il Catania sta giocando molto sbilanciato in avanti. Ciaffini sulla destra, Taldo punta centrale, Oliveria che gli ruota attorno e Jacopino sulla sinistra completamente fermi. Non rientrano quasi mai. Il centrocampo si trova molto sguarnito, in particolar modo le fasce. E secondo me i due esterni, De Martis in questa zona e Zeoli dall'altra, possono andare spesso in difficoltà. Quindi l'attacca offensiva del Catania può essere quella di cercare magari di saltare il centrocampo per andare a pescare gli uomini davanti. Vediamo l'azione da parte di Dionigi. Il duello con Gennaro Monaco, si continua a lottare. Buono l'intervento da parte del numero 37 del Catania, anche elegante, alla fine col sinistro. Spazza via direttamente dalle parti di Virigal. C'è Crieco a fare pressione su Virigal. Pallone messo dentro, non aggancia a Pazzino, si continua a lottare. Altro intervento irregolare proprio sotto gli occhi di Gabriele. Non è convinto qui in Monaco. Sta aumentando il ritmo, sta aumentando anche la frenesia. I giocatori sono molto frenetici, stanno mettendo veramente tutto sul campo. Agonismo, lotta e... Credo che vorrei rivederlo. L'ho visto abbastanza... È entrato deciso, probabilmente ci può anche stare. Andiamo a seguire questo calcio di pulizione per il Napoli, vicino al ventesimo del primo tempo. Sempre 0-0. Qui al San Paolo c'è Pasino. Sul punto di battuta di questo calcio di pulizione, ma attenzione perché potrebbe esserci anche il suggerimento dentro. Dove ci sono Virigal e Stellone. Conclusione che termina direttamente alta. Tentativo sicuramente da dimenticare per l'inquadrato Savino. Nessun problema per Sanzonetti. Si ha dovuto compiere fino a questo momento un solo intervento, però davvero di grande qualità sulla punizione di Dionigi. Sì, è un Napoli che sta premendo, ha conquistato anche diverse punizioni, però deve cercare di essere più cinico, più cattivo, di creare più pericoli con le palle da fermo. Sono delle palle sinceramente sprecate, punizioni calciate molto male. Napoli che quest'anno soltanto in quattro occasioni è riuscito a non subire gol. E al di là della partita contro il Bari è successo sempre con le siciliane. Catania, Messina e Palermo. Attenzione, un gran pallone per Taldo. Conclusione con il sinistro. Ma questa era una giocata davvero sensazionale da parte di Fini. Bellissimo. Posizione regolare per Taldo. Una giocata bellissima. Colpo sotto, ha visto Taldo allargarsi, era solo in mezzo all'aria. L'ha pescato perfettamente, non si è coordinato bene, ha sprecato una buona occasione. Buona serpentina da parte di Bocchetti che va a cercare Stellone. E infiamma il San Paolo. E questo è un gesto chiarissimo da parte di Stellone nei confronti del compagno. Qui Bocchetti ha fatto tutto benissimo. Ha iniziato molto bene per Luigi Bocchetti. Ha fatto già due o tre giocate molto interessanti. Anche questo cross era molto bello. Stellone ha tentato di anticipare. Non è arrivato in tempo, però Bocchetti gli ha fornito veramente un assist molto pregevole. Atmosfera suggestiva davvero per questo Napoli-Catania. È partita anche molto credevole con il Napoli a spingere il Catania che però si fa vivo, come ha dimostrato un minuto fa, con la grande iniziativa di Fini verso Taldo. La conclusione non è stata all'altezza, ma è un campanello d'allarme per il Napoli che sta cercando di spingere su un segretore, ma che deve stare anche attento a non concedere dietro. Fini che prova ad andare, c'è Marco Linsu di lui. Il tocco verso Grieco, davanti ovviamente Oliveira e Taldo pronti a ricevere questo pallone. La battuta in mezzo, il colpo di testo da parte di Martinez che riesce ad allontanare. Prova ad arrivare Pasino, ma non può evitare l'animezzo laterale per gli ospiti. E sicuramente un Catania, Tosciac ha inculcato ai propri giocatori una mentalità offensiva. Non si risparmiano anche De Marti. Se partite immediatamente appena il Catania ha recuperato il pallone, cerca la via del gol. Questo è buon segno, però deve stare molto attento. Qui Zeoli, poi Valdini che ha allontanato Pasino, che ha toccato solo per un istante. Adesso nuova possibilità con Grieco. Cerafini da poter servire, Grieco però rimane con il pallone fra i piedi. Poi l'apertura però intelligente verso Zeoli. Pallone un pochino troppo alto, ma anche qui l'idea era buona. Sì, molto buona. Prima intenzione, calciata di piatto. Non l'ha tagliata, l'ha colpita di piatto piena. La palla si è alzata, era anche molto forte. Però è una buona giocata, una buona trama da parte dell'attacco del Catania. Michele Zeoli, classe 73, prodotto del ritorio della Lazio. Poi subito Anzio Lavinio, Giarre, poi Civitavecchia. E poi l'arrivo al Catania nel 2000. Adesso il consenso di palla. La parte di Martinez, pallone che Marcolin fa girare. Se il Napoli gioca a questi ritmi, consente al Catania di posizionarsi sul campo e di aggivolare le proprie giocate difensive. Attenzione all'umero, ancora la parte di Bocchetti. Grande iniziativa, ma anche grande intervento difensivo da parte di Monaco, di Gennaro Monaco, che adesso va a cercare Fini. Il tocco di prima verso Grieco, che ha vinto il duello con Vinigalla. Ancora Gennaro Monaco che gira questo pallone. C'è spazio per Jacopino. L'ex Doriano prova ad andare. In mezzo ci sono Taldo e Oliveira. La battuta, la deviazione. Sarà calcio d'angolo per il Catania. Ma che bella partita da una parte e dall'altra. Accelerazione improvvisa. Direi anche una buona qualità tecnica. Molto bella. Ci sono i giocatori in campo che hanno le giocate. Jacopino in questa circostanza aveva cercato Taldo in mezzo all'area. L'aveva calciato molto bene, morbido. È stato bravo il difensore del Napoli a toccare quel tanto il pallone da evitare il colpo di testa da parte di Taldo. Ma è un buon Catania. Un Catania che come ho detto precedentemente non disdegna assolutamente. Attenzione al calcio d'angolo. Il sinistro subito allontanato. Si ricomincia con il tocco da parte di De Martis che andrà a chiamare in causa a Gennaro Monaco. Adesso possibilità ancora per la verticalizzazione. Si va a cercare il movimento da parte di Taldo. Poi arriva la chiusura. Ancora Taldo che dà una mano. Quindi Zeoli. Il tocco di prima. Verso Grieco che può far girare. Stava salendo De Martis. Preferisce però l'appoggio verso Salvatore Monaco. Ancora Grieco. C'è Vinigal da quelle parti. Ammetri Jacopino. Tocco verso Oliveira che lascia sfilare. Questo è un esempio dell'intesa tra Taldo e Oliveira che quando sono vicini riescono sempre a combinare bene. Veramente Pierluigi si alternano. Fanno un piccolo elastico tra prima punta e seconda punta. si cercano sempre quando i palloni sono a terra. Da Martini spallone verso Stellone. Spalla la porta. Sulla pressione da parte di Gennaro Monaco. Va via ancora Stellone. L'intervento da parte di Zeoli. Direttamente dalle parti di Marcolin. Poi la nuova possibilità per Bocchetti. Qui arriva il fischio arbitrale. Fallo giustissimo. Ha fatto bene a Gabriele a fischiare. Marcolin. Il tocco dentro. La deviazione di testa. Pallone che termina largo. Si è cercato l'effetto sorpresa. Colpo di testa però che non ha minimamente impensierito Sanzonetti. Rivediamo Marcolin e Dionigi. Marcolin troppo lento. Dionigi ha cercato un colpo di testa. Probabilmente indirizzandolo anche cercando una mezza nuca. Non ci è riuscito. Assolutamente non pericoloso. Buona fortuna. Rinvio profondo verso Taldo. L'intervento a chiudere. Adesso Grieco. La nuova possibilità per De Martis. Che ha metri per poter spingere. C'è il movimento di Fini. Tra l'impreciso il tocco per lui. Ancora una volta Bocchetti. Buono il suo intervento. Poi Marcolin ha toccato per Minigal. Messo giù dall'intervento di Grieco. A mezzo metro dall'arbitro. E allora nessun dubbio per Gabriele. Calcio di punizione per il Napoli. Rivediamo. Per il vento di Grieco. Non cattivo ma irritato. E il cosiddetto fallo tattico. Ha fermato immediatamente l'azione del Napoli. Consentendo al Catania di rientrare nelle posizioni che Toschak predilige. Tettativo di suggerimento di Fini. Che ha però la chiusura. Nuova possibilità con il controllo colpetto di Dionigi. Che fa cercare Bocchetti. Il tocco di prima. Non c'è nessuno però stavolta. Si può ripartire da Fini per il Catania. Grieco che guadagna metri. Davanti ci sono Oliveira e Taldo. Attenzione al movimento di Grieco. Grande apertura. Grande aggancio di Oliveira. Attenzione all'uno contro uno. Chiude bene qui la difesa del Napoli. Anche se non è ancora finita. Perché c'è Zeoli. Il nuovo tocco dentro. A cercare stavolta Tando. Il controllo colpetto. Pallone toccato dalle parti di Jacopino. Poi fuori gioco. Segnalato dal collaboratore di Gabriele. C'era sempre in acqua di Oliveira. E' anche una partita. Dei sensi tecnici interessanti. Sicuramente uno di Oliveira un istante fa. Si bellissimo. Ha controllato una palla difficilissima. Da grande giocatore. Il Napoli deve stare molto attento per vie centrali. Perché il Catania appoggia spessissimo la palla proprio per vie centrali. In particolar modo a Taldo. Che è molto bravo nel fare la sponda. Per gli inserimenti soprattutto di Oliveira. Ma anche di Fini a destra. Di Jacopino a sinistra. Deve stare attento perché c'è un buco tra Marco Lin e Vidigal. E i difensori. E si posiziona sempre molto bene Taldo. E quasi sempre riesce a prendere il pallone. De Martis. Il pensore di Alghero. Ha cercato di evitare il pallo laterale. La rimessa però c'è. E per il Napoli. E per Bocchetti. Chiusura di De Marte su Dionigi. Sarà nuovamente Bocchetti. Pronto per questa rimessa. C'è l'opzione Marco Lin. Il tocco in orizzontale. Pallone che viene fatto girare da Baldini. Nuova battuta profonda. L'intervento a chiudere. Poi Zeoli potrà arrivare su questo pallone. Va a cercare il movimento profondo. La parte di Taldo. Taldo vince il primo duello. Possibilità per lui. Intervento a chiudere da parte di D'Angelo. Grande esperienza. L'intervento proprio di esperienza. Ha temporeggiato. Taldo è arrivato scordinato. E lui senza commettere fallo ha portato via una palla. Che avrebbe potuto rivelarsi pericolosa. Altro acquisto importante come sottolineavi tu. Quello di D'Angelo. Dopo 11 anni al Chievo. La possibilità. Stanno che sembra un po' chiuso. Anche per la grande crescita di Le Grottaglie. Di conquistare davanti a un pubblico che ama particolarmente. Una platea di questo tipo. Minuti, occasioni. Giocatori che comunque ha dato tantissimo al progetto Chievo. Nelle ultime stagioni. Qui Gabriele. Che ha qualcosa da dire. Provano a chiarirsi. Speriamo che sia ovviamente tutto a posto. Gabriele. Sto cercando di cogliere il labiale. Mi pare che ha posato mezzi termini nella circostanza Gabriele. Siamo pronti per la battuta di questo calcio di punizione. Da parte di Marco Lin. Quindi il possesso di palla con D'Angelo. Che va a cercare un pallone non facile. Verticale verso Marco Lin. Poi la nuova battuta. Cercare un po' di profondità. Ma arriva Jacopino. Poi possibilità per Grieco. Che può agganciare questo pallone. Va a cercare la battuta profonda. Quale il movimento di Jacopino? Arriva Baldini in chiusura. Pallone che viene messo in fallo laterale. 28 minuti sul cronometro di questo primo tempo. Andiamo a bordo campo. Paolo Sogni. Si lamentava Toschak per questo fallo fischiato al suo giocatore. C'è stato un scambio di opinioni con Gabriele. Che ha dimostrato di avere grandissima sicurezza. E gli ha detto. Mister non si preoccupi. Per me è tutto facile. Ecco. Una valutazione importante. Per il resto abbiamo avuto la stessa impressione. Leggendo il labiale. E guardando l'immagine molto stretta. Del direttore di gara. Che ha evidentemente tranquillizzato Toschak. Sicuramente si spegne. Il problema è se l'ha capito Toschak. Perché il tono con cui l'ha detto Gabriele. E la lingua in particolar modo. Ballone messo in mezzo. Tentativo di girata. Da parte del solito Taldo. Ballone che finisce direttamente dalle parti di Mancini. Nuova possibilità per Bocchetti. Che ha giocato una prima metà del primo tempo. Davvero di grande qualità dal punto di vista della spinta. Sicuramente si. Sulla fascia sinistra. Il Napoli si è proposto. Bocchetti è stato protagonista. Così non è stato sulla fascia destra. Dove Martinez non è ancora entrato in partito. Non ha mai creato nulla di pericoloso. Ed è un giocatore molto importante. Deve dare di più. Soprattutto sulla fascia destra. In fase di spinta. E infatti il Catania ha faticato soprattutto sul proprio out di destra. Catania che da qualche minuto mi sembra messo meglio comunque in campo. Dopo una fase di buona assomirazione del Napoli. Si. Intervento su Marco Lino. Sicuramente si ma anche perché il Napoli non riesce a dare i ritmi alti come ha fatto invece in una piccola fase del primo tempo. Però è un Catania che ha ripreso coscienza delle proprie possibilità, dei propri mezzi. Ha conquistato metri sul campo. Vediamo chi arriva per primo su questo pallone. Martuscello poi il pallone che ha trovato servito in profondità a cercare il movimento di Jacopino. Arrima un'uomo segnalazione da parte della terra. Si riprenderà. E qui. L'abbiale. È chiaro. È chiaro. Anche i microfoni dal campo che hanno offerto la possibilità di cogliere la delusione di Baldini che voleva evidentemente l'intervento irregolare ai suoi danni. Che c'era. Però l'arbitro evidentemente non ha fischiato proprio perché la palla era finita in fallo laterale. Buon recupero da parte della difesa del Catania. Mezz'ora del primo tempo superata da una macciata di secondi. Sempre 0-0 il rinvio profondo da parte di Sanzonetti che va a cercare il movimento di taldo. Poi Oliveira prova a domesticare questo pallone. Alla fine è D'Angelo che spazia via. Dato una mano Pasino. Qui c'è l'intervento irregolare. Che sarà calcio di punizione da il Catania con il primo giallo della gara. Il fallo su Vidigala. Avremo certamente mano di rivedere. Artuscello ha avanzato la gara. Netto. Fallo netto. Entrato a gamba tesa. Fallo ci stava tantissimo. I giocatori del Napoli secondo me dovrebbero supportare maggiormente i tre davanti perché quando recuperano palla sono un po' lenti i centrocampisti. Sia Vidigala come in questa circostanza va avanti quando la palla è ferma. Ma quando recuperano il pallone insieme a Marcolin e Bocchetti lo fa ma Martinez sulla destra dovrebbero accompagnare maggiormente l'azione per essere più pericolosi. Pallone che viene eserbito in profondità. Martinez può diventare la chiave perché insomma Marcolin e Vidigala sono due centrocampisti che possono dare molto dal punto di vista della geometria. Forse meno dal punto di vista della spinta. E allora se Bocchetti viene lasciato da solo dei quattro della linea di centrocampo a spingere il Napoli perde un po' della sua spinta propulsiva. Sì sicuramente sì probabilmente Marcolin è quello che spinge bene ma Midigal ce l'ha nelle sue caratteristiche. Non ha un passo velocissimo però si inserisce molto bene. Sta giocando molto lontano dalla porta e non sta assistendo sotto questo aspetto il reparto offensivo. Intanto avete visto dalle parti della panchina del Catania c'è una sorta di partita nella partita. Quella di Toschak che segue davvero mediterraneo la sfida. Credo possa essere contento comunque di come il suo hanno intercettato questi primi 32 minuti. Oliveira viene chiuso. Pallone che termina in fallo laterale. Pallone l'intervento su di lui da parte di Savino. Sicuramente sì per come ha affrontato la partita con personalità. Ha concesso pochissimo a Napoli tranne con la bella punizione di Dionigi. È sicuramente un Catania positivo fino a questo momento. Oliveira buono lo scambio con Fini. Attenzione al movimento di Fini. Conclusione con il destro. Pallone che gira probabilmente per una deviazione. Proprio così ha rischiato tantissimo il Napoli in questa occasione. Ah sì una bellissima giocata. Oliveira si propone sempre. Va incontro. Fini gli ha fatto un 1-2 a calciato. La palla ha sbattuto sulla schiena credo di Baldini. E per fortuna di Mancini è finita a mezzo metro fuori dal palo di sinistra. Attenzione alla battuta di questo calcio in angolo pericolo. Prova ad arrivare su questo pallone Oliveira. Si continua a combattere. Poi l'intervento irregolare. Sotto gli occhi dell'arbitro ottimamente piazzato. C'era anche Salvatore Monaco da quelle parti. Intervento falloso. Secondo Gabriele. Calcio di punizione per il Napoli. Volevo segnalare anche la buona partita fino a questo momento di Fini che magari non ha toccato tantissimi palloni ma è stato protagonista di due delle iniziative più interessanti del Catania. Quel magnifico assist per Taldo non finalizzato a dovere e poi questa conclusione. Sì sì sicuramente sì partita positiva e pochi non tantissimi. Attenzione a Grieco pallone profondo scusa di Maurizio. Troppo profondo però a cercare il movimento di Iacobino. Buona lettura da parte di Mancini. Prova a spingere Martini. Sicuramente sì. Fini sta disputando una buona partita così come tutto il Catania che in questo momento è padrone del campo. Sta giocando in... Sta dettando in pratica i tempi della partita. Sì ha preso coraggio dopo una partenza con qualche difficoltà sulla spinta propulsiva del Napoli. Pallone che arriva dalle parti di Sanzonetti. Comunque complessivamente fino a questo momento il risultato è giusto. Napoli ha avuto una buona fase. Adesso il Catania sta cercando di crescere. Prova D'Angelo. Martinez. Due dei nuovi arrivati. Volo in possesso di pallone da parte di Stellone. Però deve tornare molto basso perché c'è il pressing di Iacobino. Ma Taldo a disturbare Vidigal. E si riparte allora dalla linea tre del Napoli. Possibilità per Ciavino che ha vinto il ballottaggio contro Ise per una maglia da titolare. Qui Pasino va a cercare Bocchetti. Difende il pallone Bocchetti. Poi Fini. Buona la sua lettura in anticipo su Pasino. Pallone che viene allontanato. Grieco che prova a tenerlo in campo. Riuscendoci. E allora Fini con grande calma va a servire Taldo. Lavora bene il pallone Taldo. Grieco buono lo scambio ancora con Taldo. La pressione su di lui da parte di tre giocatori del Napoli. Anche Stellone va a dare una mano in fase di interdizione. Iacobino comunque se la cava. Zeoli. Quindi Gennaro Monaco. Chiamano in causa. Sanzonetti. Rischia qualcosa sulla pressione da parte di Dionigi. Poi De Martis. Ma è un Napoli molto largo. Sta facendo pressing ma non in maniera organizzata. Facilitando il palleggio dei giocatori del Catania. I giocatori di cui... Che la maggior parte di loro sono dotati. Per cui quando puoi controllare la palla con tanto spazio a disposizione diventa facile. Abbiamo visto un Tosciac fino a questo momento molto caldo. Con fatica a rimanere seduto in panchina. Tutto qui vediamo quanto decide Gabriele. Sarà calcio di punizione per il Napoli. Sembra che Scoglio sia invece decisamente più tranquillo. Mentre qui Gennaro Monaco ha qualcosa da dire. All'indirizzo del collaboratore rischia anche il cartellino giallo. Che immancabilmente arriva. Secondo a monito del Catania. E' andato a protestare in maniera abbastanza plateale con il collaboratore di Gabriele. Probabilmente deve aver ricevuto un colpo. Sta cercando di farlo notare. Sì, probabilmente ha ricevuto un colpo involontario di Dionigi. Si sono strattonati due giocatori. L'arbitro ha fischiato il fallo. Avrebbe potuto anche non ammonirlo. Ma Gennaro Monaco ci ha messo del suo con una protesta molto plateale. Intanto il nostro Gabriele Falvo mi ha ascoltato. Ci ha mostrato uno scoglio fino a questo momento. Assolutamente sereno. Quanto meno. Insomma, arrivare in panchina seduto ad osservare la gara. 36 minuti. Poi magari andremo anche a farci raccontare qualcosa di più da Paola Sonia. Che è in posizione assolutamente privilegiata. In marcatura stretta sui due allenatori. Attenzione alla possibilità per il Napoli. In area di rigore ci sono cinque uomini. Pronti a sfruttare il sinistro. Che sta per arrivare. Anche Baldini e D'Angelo. Le torri della difesa sono andate a cercare fortuna davanti. La pressione di Gennaro Monaco. Molto probabilmente ci sarà il cross. Cercare i centimetri di stellone. Battuta con il sinistro. Buono l'intervento all'allontanare direttamente da parte di Martuscello. E Napoli può ripartire con il consenso di palla addirittura di Mancini. Altra occasione sprecata. Poco pericolo a creare il Napoli sulle palline attive. Ne ha avute 4-5 a disposizione. Zero pericoli tranne quella di Dionigi. Palline attive che da sempre sono una delle fissazioni. Per così dire uno dei pallini di scoglio. Che insiste tantissimo. Del resto possono avere un'incidenza davvero fondamentale sulle partite. Attenzione a Bocchetti che ha ricevuto la Marcolina. Buono il movimento di Bocchetti. Vediamo se riesco a trattare il pallone in campo. Sanzonetti che dice di no. Grandissima iniziativa da parte di Bocchetti. Ci ha creduto Dionigi e ha conquistato un calcio. Sicuramente secondo me il migliore del Napoli in questi 37 minuti. Grande palla. È stato bravo Dionigi. Ha cercato il cross. E stava per diventare una giocata pericolosissima. Sanzonetti attento. Ha evitato una palla insidiosissima. Attenzione a Marcolina che prova il cross. Conquista un nuovo calcio in angolo. Jacopino in copertura giù di lui. 4-2 il conto dei corner. 38 minuti nel primo tempo. 0-0 il punteggio. Grande intensità. Prova a riprendere l'iniziativa il Napoli. Va con Marcolina. La battuta in questo calcio in angolo. Colco di testa. Direttamente dalle parti di Sanzonetti. Ha provato il tentativo di girata. Il più piccolo, Pasino. Pasino. Senza però riuscire a far male a Sanzonetti. Era una palla non molto forte. Anche girandola diventava difficile poterla indirizzare. Così è stata. L'ha colpita. Ma per Sanzonetti è stato tutto molto semplice. Non è ovviamente nemmeno la sua specialità. Pallone profondo. Cercare il movimento la parte di Taldo. Oliveira che prova a raggiungere questo pallone. Combatte con Savino. Poi c'era anche Marcolina. Quelle parti alla fine. Bonchetti allontanano. Direttamente sul petto di Fini. Fini elegante. Ancora una volta su Pasino. De Martis. È troppo indietro però il Napoli. Consente troppo palleggio ai giocatori del Catania in questa fase. Preferisce immediatamente coprirsi la squadra. Lasciando l'iniziativa al Catania. Attenzione. In difficoltà Grieco. Che poi prova a fermare Vidigal. Attenzione. Quattro contro tre. Poi Vidigal sbaglia il passaggio. Arriva Zeoli. Providenziale il suo intervento. Vidigal è stato disturbato nella prima fase dell'azione. L'antetarrivo disperando di fallo tattico da parte di Grieco. Poi quando sembrava invece in piedi. In grado di far male. Ha sprecato un grande assist. Ha rubato una palla molto intelligentemente. Ma l'ha servita malissimo. Sprecando probabilmente una delle occasioni più interessanti a favore del Napoli in questo primo tempo. Si sta riaccendendo la partita per Luigi. Intanto arriva un nuovo cartellino giallo nei confronti di Oliveira. Che non mi sembra particolarmente convinto della decisione arbitrale. Riveniamo. C'era, c'era. È entrato proprio deciso su un pallone con la suola. Secondo me c'era una munizione. Gabriele ha fatto bene a tirarla fuori. È uscito da un tackle precedente. Era nervoso. Si è avventato con decisione però con la suola. Per cui credo che la munizione sia ampiamente giustificata. Tanto ancora problemi. Vediamo qual è la decisione da parte di Gabriele che credo abbia espulso l'allenatore del Catania. O quantomeno... Ti stia dicendo che alla prossima. Allora facciamoci aiutare la Paola Sogna. Paolo che cosa succede? L'assistente di Toschak, Paolo. Esatto, esatto. È così. Era molto nervoso ed è stato espulso da Gabriele. Anche Toschak non è per niente soddisfatto delle ammunizioni date ai suoi giocatori. Usa uno slang angolo-ispanico ma si fa comprendere molto bene. Perfetto. Allora abbiamo anche la possibilità di decorificare i messaggi di Toschak. Possibilità per il Catania che prova a riuscire. Qui l'intervento da parte di D'Angelo. Anche qui grande esperienza, grande mestiere. È rimasto dietro, ha aspettato l'errore del giocatore del Catania. È stato bravissimo D'Angelo perché Martini si è fatto battere da Jacopino. Non è ancora, come già detto, entrato. Anzi, non c'è stato sinceramente fino adesso in partita. D'Angelo con calma, Serafica, ha scelto il tempo in maniera perfetta e senza commettere fallo ha recuperato un pallone importante. Qui è stato fermato Stellone. Ottimo l'intervento. Attenzione al tocco dentro verso Taldo che poi ha cercato di restituire il pallone al compagno ma non è riuscito a servirlo perché c'è stato un intervento irregolare. Arriva anche il primo cartellino giallo per il Napoli. La partita è molto intensa, molto vibrante dal punto di vista agonistico. Allora Gabriele utilizza anche l'arma dei cartellini in buona quantità evidentemente per cercare di prevenire qualsiasi intervento. Vediamo, qui si disinteressa completamente del pallone D'Angelo. Credo sia Sanino, credo, dalla posizione in campo. Ha eletto perfettamente... No, D'Angelo, D'Angelo ha eletto perfettamente. L'arbitro è molto bravo perché ha visto che la partita si è riscaldata e immediatamente sta cercando di frenare gli animi che si stanno riscaldando notevolmente. E allora quattro ammoniti. D'Angelo per il Napoli. Gennaro Monaco, Martuscello e Oliveira per il Catania. L'espulsione di Angelo Palmasi, il collaboratore di Toschank. Partita assolutamente intensa, assolutamente viva. 42 minuti, occasioni da una parte e dall'altra. Adesso è a una importante il Catania. È pronto Grieco sul punto di battuta. Vedremo se andrà lui. È possibile anche... Anche Fini è uno che... Attenzione a che Fini è dotato... Eccolo. Ecco qua il tocco per Fini. Conclusione con il destro. Il pallone che termina alto. Non hanno scelto il tempo giusto. Fini è dotato di un buon tiro. Però Grieco ha fintato, poi gliel'ha passata. Ma è stata, secondo me, non toccata molto bene. È uscito il giocatore del Napoli. Fini è stato costretto ad allungare il passo e ha calciato molto male. Michele Fini, classe 1974, cresciuto nel sorso. Poi Torres, questo è stato l'inizio della trafila per lui. Il giocatore che sta facendo vedere buone cose. Non è una novità, ma stasera ha prestazione fino a questo momento di ottima qualità per lui. Con un paio di iniziative davvero pericolose per la difesa del Napoli. L'intervento da parte di Martuscello. Ci sarà il calcio di punizione per il Napoli. Questo è l'intervento che ha provocato il fisco arbitrale. Ancora 110 secondi al termine di questo primo tempo. Poi ci sarà soltanto il recupero. È pronto Pasino. Sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Già tre giocatori nell'area di rigore della formazione ospite. È salito anche in Angelo. Adesso sono diventati dunque quattro gli attaccanti del Napoli. Pronti a sfruttare il sinistro di Pasino. La battuta proprio col sinistro. Pallone messo in mezzo. Il colpo di testa da allontanare. Non è finita però anche Oliveira. Prova a dare una mano. La fine Martuscello che allontana. Possibilità per Jacopino che ripete questo pallone. Due su di lui. Alla fine c'è una Martinez. Sarà comunque cavata. Andrà a cercare fini. Attenzione a Taldo. Il controllo di Taldo in mezzo a due. L'intervento a spazzare via per evitare qualsiasi problema da parte dell'inquadrato Bocchetti. E' stato sfortunato Taldo perché se fosse riuscito a mettere il pallone a terra si trovavano tre contro tre. Avrebbe potuto creare un'azione sicuramente interessante. Ha stoppato male facilitando l'intervento del difensore del Napoli. D'Angelo non è una situazione facile perché alle sue spalle vedete c'è la pressione da parte di fini. Poi il pallone che viene messo direttamente in pallo laterale. viene concessa in pratica la rimessa al Catania che prova dunque a far sedire il vericentro del proprio gioco. Prova a guadagnare qualche metro. E' pronto a De Martis. C'è Fidi che potrebbe essere servito. Il pallone però è dentro per il movimento da parte di Taldo. Spalla la porta. I due a chiudere su di lui. Riescono in qualche modo a cavarsela ma comunque devono concentrare il calcio ad angolo. E' difficile togliere i palloni a tanto. Copre molto bene. E' forte fisicamente. Veramente secondo me sta disputando un ottimo primo tempo. Niente di pericoloso in fase offensiva ma sempre pronta ad appoggiare i propri compagni. Già due reti per lui. Livorno è nella partita interna. Da dare il successo la scorsa giornata al Catania contro il Cagliari. Un minuto intanto la segnalazione del periodo di recupero. Ancora 50 secondi. Poco più. Fidi provano a dare verso Taldo. L'intervento a chiudere da parte di Baldini. Nuova possibilità per il centrocampo del Catania. Grieco che allarga nella zona di Zeoli. Ragna metri Zeoli. Poi va a cercare questo pallone verso Taldo. Attenzione all'inserimento di Fidi. C'è un anticipo puntuale di un attento Marcolin. Poi De Martis. Grieco. La pressione di Marcolin. Il pallone che viene fatto girare. Però sempre per l'orizzontale. Adesso si va in verticale. L'idea non era male. Bellissimo D'Angelo. Era una palla bellissima. Perfini. Ottima la lettura da parte di D'Angelo. Prova a uscire ancora la formazione di Scoglio. Il pubblico vorrebbe un'ultima iniziativa. Mancano 7 secondi in questo momento. Possesso di palla da parte di Martinez. Che prova a mettere in mezzo. Primo processo di palla della ripresa con il Napoli che va a cercare subito le punte. Ma qui c'è la chiusura senza difficoltà da parte di Zeoli. C'è il contatto fra Jacopino e Vidigal. Arriva il primo fischio arbitrale della ripresa a favore del Catania. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione. Vidigal ha ostacolato fallosamente Jacopino. Cerca il numero Jacopino. Martinez vuole un intervento in chiusura da parte della difesa partenopea. Adesso possibilità per Dionigi che prova ad andare. Viene chiuso. Pallone che termina in out. È iniziata con più o meno come la fase di tutto il primo tempo. Il Napoli attacca solo con due effettivi. E per cui diventa difficile anche poter difendere un pallone così come è stato in precedenza per Dionigi. Qui l'intervento da parte di D'Angelo che andrà a cercare proprio Dionigi. Poi Pasino che prova a tenere via questa azione ma viene chiuso molto bene dall'intervento da parte di Martuscello. Poi un po' di confusione alla fine il pallone che termina. Oltre la linea laterale la rimessa sarà a disposizione del Catania. È pronto ad andare Zeuli. L'inquadratura per Martinez. Uno dei cinque nuovi arrivi per la formazione del Napoli. Assieme a Pasino, D'Angelo, Savino e Marco Lin. Martinez è un colombiano. Ha la terza stagione in Italia, 27enne. Deve dare di più rispetto a quello che ha fatto vedere nel primo tempo. Savino, qui fa buona guardia. Stellone ha toccato verso Marco Lin. Prova a cercare in profondità ancora Stellone. Anticipato però di testa in maniera regolare. Nuovo colpo di testa ma Jacopino è in anticipo. Sono migliorati tantissimo sotto l'aspetto tattico. Veramente i due esterni come ci ha fatto notare Paolo Assogna durante l'intervallo. Jacopino si sta muovendo molto bene sia in fase offensiva sia in fase di centrocampo. E' diventato molto più elastico e tatticamente più equilibrato lo schieramento del Catania. Ballore che termina in palo laterale. Siamo pronti per la rimessa con Bocchetti. Due minuti sul cronometro di questo secondo tempo. De Martis poi ha toccato in qualche modo Taldo. Alla fine Possanzini direttamente dalla zona di Martinez. Non particolarmente illuminante il pallone di Marco Scello. Sì, sì, calciato. Possibilità per il Napoli che prova ancora con l'uno contro uno. Con la chiusura puntuale da parte di Gennaro Monaco. Martinez avrebbe dovuto accompagnare. Avrebbe dovuto sovrapporsi a Dionigi. Non sta spingendo tantissimo. Diventa difficile anche per gli attaccanti. Sono costretti, come in questo caso Dionigi, a fare l'uno contro uno. E non è nelle caratteristiche di Dionigi fare l'uno contro uno. Il pallone che termina in pallo laterale. C'è la possibilità per la rimessa con Martinez. C'era l'opzione Vidigale. Invece il pallone è verso Dionigi che prova il numero. In questa circostanza riesce a dar via Gennaro Monaco. La battuta in mezzo. Stellone è preso contro tempo. Non è finita però ancora il cross. Arriva l'intervento da parte di Sanzonetti che non ha difficoltà a recuperare. E qui Dionigi è riuscito a saltare l'uomo. Grande giocata. Palla alta. E' riuscito a giocare veramente molto bene. A servire un pallone interessante. E' stato bravo Bocchetti ad accompagnare l'azione. Ma l'ha accompagnata leggermente in ritardo. Ed è arrivato col passo lungo. Se fosse partito prima avrebbe potuto anche concludere a rete. Zeuli ha battuto questo calcio di punizione a beneficio di Grieco. Buono il movimento da parte di Fini. Poi Martuscello. Buono lo scambio. Ancora Fini che prova ad andare in verticale. Oliveira. Attenzione al movimento di Oliveira. Cerca il numero. E poi il pallone che arriva dalle parti. Mancini. Gli attacchi del Catania finiscono sempre per vie centrali. Qui c'è la posizione di fuori gioco. La parte di Dionigi sul tentativo di Stellone. Dunque si riprenderà con un semplice calcio di punizione per il Catania. Stiamo rivedendo. Mi sembra netta. Nettissimo. Nettissimo. Nessun dubbio. Pronti per il rinvio da parte di Sanzionetti. Dalle sue parti c'è Gennaro Monaco. Mentre qui qualche problema per Salvatore Monaco. Gennaro Monaco classe 1968. 68 napoletano. Difficoltà per il pensore. Intanto stiamo rivedendo. Il copito involontario di Stellone l'ha colpito sulla parte laterale del viso. Problemi per l'ex Perugia. Per lui totale in Serie A con la formazione Umbra. 18 presenze. Prima altre 18 presenze nel 98-99 con la Salernità. Pallone che viene spazzato via. Si va a cercare il colpo di testo da parte di Stellone. La scena dei Martis da quelle parti. Allora adesso prova ancora a venire avanti il Catania. Jacopino. La pressione su di lui. Poi il pallone toccato da Martuscello. Arriva un nuovo fisco arbitrale. Virigal non è convinto della decisione arbitrale. Ma tant'è. Stiamo rivedendo. Intervento irregolare secondo il direttore di campo. Questo qui ovviamente. Secondo me non... Poteva anche evitare l'intervento arbitrale. La battuta da parte di Grieco. Va a cercare Zeoli. Martines fa una buona cosa. Lasciando scivolare il pallone. Direttamente oltre la linea laterale. Cinque minuti. Un po' in sordina in questo avvio di ripresa. Il ritmo è un po' calato. Rispetto soprattutto all'ultima parte della prima frazione. Si sicuramente le squadre hanno iniziato ancora in fase di studio. Sono lì a confrontarsi. Nessuna riesce a prendere il possesso completo della partita. Ci sta provando il Napoli. Probabilmente ci vorrebbe un'azione o da una parte o dall'altra. Per dare entusiasmo e per dare la possibilità di crederci maggiormente. Qui Marco Lin è andato a cercare in verticale movimento. La sua posizione di fuorigioco. Tutto inutile. La sua posizione di offside. La sua posizione finale da parte di Dionigi. Ma era già in fuorigioco. Rivediamo. Azione molto simile a quella precedente. Praticamente identica. Tutto aranato dalla verticalizzazione di Marco Lin. Mentre qui Gabriele a colloquio con l'attaccante del Napoli. Pronto al rinvio. Sanzonetti protagonista di due ottimi interventi della prima frazione. Sempre su Dionigi. Non ha particolare fretta. Fa salire la squadra. Eh sì. E adesso va la battuta profonda con il destro. Andrà a cercare Taldo. Colpo di testa in anticipo. Martuscello che prova a mettere in movimento fini. E poi tentativo di battuta con l'intervento per acchiudere la possibilità per Stellone di ripartire. De Martis in pressione su di lui. Prova ad andare Stellone. Attenzione all'ex Lecce. Possibilità per l'uno contro uno. Ancora Stellone. Prova il cross con il sinistro. Non c'erano molti sbocchi. Non c'erano molti sbocchi. Però dall'altro noi ho avuto modo di vedere. Secondo me è una lacuna del Napoli. I centrocampisti non accompagnano. Martínez non accompagna. Anche se Stellone fosse riuscito a servire il pallone in mezzo. C'era solo ed esclusivamente Dionigi. Diventa difficile. Attenzione. Diventa difficile poter essere pericolosi e trovare la via del gol. Devono supportare maggiormente gli avanti centrocampisti del Napoli. E qui stiamo rivedendo l'intervento di Pasino su Griego. Lo scorso anno giocavano insieme nel Modena, nella cavalcata. La squadra di De Biasi verso la Serie A. Pasino protagonista anche di un gol con la maglia del Modena in questa stagione. Però decisivo a Reggio Calabria a novembre. Tentativo di battuta a cercare De Martis. Si continua a combattere con Fini. Buono il lavoro da parte di Fini. Ottimo. Qualità tecniche importanti per lui. L'apertura verso Zeuli. Buono l'aggancio. Però c'è il lavoro prezioso di disturbo da parte di Dionigi. Tutto regolare per Gabriele. Poi Dionigi che prova a ripartire. Concede però il pallone a Jacopino. Adesso Oliveira. Possibilità per il Catania. Prova da centrarsi. Oliveira. Ancora lui Oliveira. Attenzione al movimento. Oliveira. Numero di Oliveira. Viene chiuso proprio all'ultimo. Ma qui si è vista la qualità tecnica. e anche ancora la strapotenza fisica. Lo strapotere fisico del numero 25 del Catania. Ma sta bene. Ha fatto un'azione in percussione bellissima. Gli è mancato proprio il colpo finale. La palla gli si è allungata nel momento che stava posizionando il colpo per tirare. Però sicuramente un'azione pregevole. A dimostrazione delle grandi motivazioni di quest'attaccante. Che anche quest'anno sta facendo molto bene. Ha già fatto nove gol. Ma soprattutto della condizione fisica. Lo vedo molto più impante. Molto voglioso. Gli è mancato proprio l'ultimo tocco. Eh sì. Baldini è stato providenziale. Ma davvero straordinario. Lo strapotere fisico. In questa circostanza. Da parte dell'ex giocatore del Cagliari. Marcolin non è contento di questa decisione arbitrale. Catania in possesso di palla. Nove minuti sul cronometro nella ripresa. Sempre 0-0. Pronto Salvatore Monaco. Sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Vedremo se andrà a cercare il tandem. Oliveira Taldo. È proprio così che è l'anticipo da parte di Martinez. Poi Dionigi che difende questo pallone. C'è Marcolin da quelle parti. Anche Virigal. Lascia la fine il pallone. L'ex giocatore della Lazio. Buona la verticalizzazione di Marcolin. A cercare Pasino. Poverso Stellone. Attenzione all'intervento da parte di Gennaro. E poi pallone che viene allontanato. Affaticato davvero nella copertura. In questa circostanza. Il Catania. Providenziale. Gennaro Monaco. Nell'intervento a chiudere. Favorendo Sanzionetti. Nuova possibilità adesso per il Catania. Colori Veira al suo processo di palla. Poi provano ad aprire. Lo fa molto bene. Verso Fini. C'è anche Grieco a sostegno in posizione centrale. Fini provano ad andare. Cerca il suggerimento in mezzo. Fallone che viene ribattuto. Si accontenta della rimessa laterale. Sta riprendendo quota la partita. Le squadre stanno iniziando a credersi maggiormente di poterla sbloccare. Prima c'era stata una gran palla di Pasino. È stato bravissimo il difensore del Catania a scegliere il tempo giusto. Se no Stellone si sarebbe trovato davanti al portiere. Qui il tentativo di Jacopino. Suggerimento verso Taldo. Non ci sono problemi per il recupero da parte di Mancini. I numeri del Catania fuori casa sono particolarmente negativi. Stasera sta andando decisamente meglio. Appena un pareggio in nove gare. Per la formazione siciliana. Quello del derby contro il Messina del 21 settembre. 3-3 in quell'occasione. Per il resto 8 sconfitte. Attenzione a Stellone che prova ad andare in mezzo a 3. Difende questo pallone. Spalla la porta. Prova ancora. Riesce a girare verso Pasino. Attenzione al Croz in mezzo. L'intervento da parte di Sanzonetti. Poi Jacopino che dà una mano. Anche qui poca assistenza da parte dei centrocampi di Silenama. Assolutamente zero Pierluigi. Assolutamente. Marcolin e Vidigal hanno guardato. Pasino a lavorare un pallone difficile sulla sinistra. Avrebbero dovuto inserirsi dentro l'aria. La palla poi è uscita come spesso accade. Attenzione. E potevano cercare di inserirsi ma erano troppo lontani. Esatto. Qui Pasino ha cercato di mettere in mezzo questo pallone. 11 minuti dopo un inizio di studio di questo secondo tempo. Però come sottolineavi tu la partita sta riprendendo quota. Con occasione da una parte e dall'altra. Qui Pasino ha lasciato un buon protagonista sulla sinistra. Sta entrando in partita. Ha già fatto un paio di cose in questo secondo tempo. Deve toccare più pallone. Lui è il giocatore che deve fare, che deve dare quel qualcosa in più. La qualità. La qualità, quella che si aspetta a scoglio. Elegante Jacopino. Una serpentina in mezzo a tre. Adesso Zeoli va a cercare proprio Jacopino. Che difende questo pallone. C'è anche Vinigal il raddoppio di marcatura. Che alla fine riesce ad avere la meglio. Senza fallo. Possibilità per Martinez. Prova a cambiare marcia il Napoli. Pasino che difende questo pallone. Vinigal. C'è anche Marcolin poco lontano. Complicato qui il possesso di pallo da parte di Vinigal. Che poteva forse subito servire Marcolin. È andato comunque a prendersi il pallo. Ecco qui. La segnalazione di Taldo. Mentre fermo a terra Jacopino. E dunque. Ecco spiegata la pausa del gioco. 12 minuti sul programma della ripresa Gabriele. Che va a sincerarsi delle condizioni del numero 76 del Catania. Che mi sembra stia crescendo come contributo. Come sottolineavi anche tu. Dopo una partenza non facile. Assolutamente sì. Ha bisogno anche di inserirsi nei meccanismi della squadra del Toscia. Dopo un inizio non... Dovremmo ancora assestarsi sul terreno di gioco. Sta crescendo Jacopino. Tatticamente è cresciuto moltissimo. Adesso lo sta facendo anche sotto l'aspetto della personalità. Perché ho già visto che vuole la palla. Diverse volte va incontro alla palla. Cosa che non ha fatto nell'inizio del primo tempo. Eh sì. Di Jacopino sono molti anni che si parla bene. Era un pallino di Eriksson. Poi gli è mancata la crescita. Il salto di qualità. Però un'occasione importante a Catania. E oggi sta facendo bene. Buon possesso di palla la parte del Napoli. Che prova con Savino. Va in verticale Savino. Stellone. Prova la sponda. Zevoli che allontana. Minigal si lascia completamente scavalcare dal pallone. E allora il Napoli deve rallentare. Può ripartire ancora con Martinez. Intanto sta per rientrare il numero 76 del Catania. Prova ad arrivare l'Iveina. C'è Martinez in vantaggio. Però fatica il colombiano. Poi prova a pescare il compagno. Fini. Riesce a avere la meglio. Alla fine dei Martis. Dovrebbe arrivare in anticipo. Deve però spazzare via direttamente in palo laterale. Sì. È un Napoli che sta cercando di imporre la propria forza. Sta cercando di impossessarsi della partita. È salito di parecchi metri sul terreno di gioco. Anche se sinceramente ha difficoltà a rendersi pericoloso. Perché oggi ha avuto modo di dirlo diverse volte. Giocano proprio soli i due attaccanti davanti. Non hanno mai neanche la possibilità di fare delle sponde. Sono costretti quasi sempre a cercare di stoppare il pallone. E di concludere da solo. È difficilissimo per gli attaccanti del Napoli giocare. Anche perché sono quasi sempre con la schiena alla porta. Pronto intanto Marco Lin sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Mentre è pronto ad entrare. Questa sarà una novità importante del Catania. Possanzini. Attenzione alla battuta di questo calcio di punizione. Pericolo in mezzo a lontano Oliveira. Che è davvero ovunque. Da una mano anche a risolvere le situazioni difensive spinose. Qui De Martis. Non c'è fallo secondo Gabriele. Allora possibilità per il Napoli. Chiama il pallone al centro. Stellone. Tocca per lui la girata. Pallone però troppo centrale. Sì, buon cross. Stellone molto attento. Era abbastanza lontano. Non era riuscito a dare la giusta forza. E pallone semplice per Sansonetti. Del resto, correggimi se sbaglio. Su un cross che arriva da dietro. Dalla tre quarti. È molto difficile per l'attaccante dare forza. E ovviamente anche angolare nella maniera migliore. Ma il Napoli per Luigi fino a questo momento non ha avuto assolutamente profondità. Non è mai andato sul fondo. Tranne che in quell'occasione di Dionigi nel primo tempo. Che poi ha cercato. Che ha creato un pericolo non indifferente a Sansonetti. Il Catani avrà a disposizione questo calcio di punizione. Sta per arrivare il cambio. Abbiamo probabilmente già il nome del giocatore che dovrà uscire. Vero Paolo Sogna? No, volevo dirti che era pronto Po Sansini. Probabilmente per le condizioni di Jacopino. Adesso però sta verificando queste condizioni Toscia. Che ci sta pensando un attimo. Perfetto. Allora ancora qualche istante. E poi vedremo se ci sta il cambio del Catani. Che a quel punto dovrebbe essere con Jacopino. Ovviamente se Jacopino non sarà al meglio. Attenzione a Fini che mette il pallone dentro. Pericolo. Va giù Oliveira. Ci sono le proteste da parte di Taldo e degli altri giocatori del Catania. Napoli che prova ad uscire. Pallone verso Martinez. Riesce a difenderlo sulla linea laterale. Mette in movimento Pasino la pressione di Grieco. I due si conoscono molto bene. La grande apertura. A cercare il movimento verso Dionigi. Grande intervento da parte di De Martis. Gran senso della posizione. Bravissimo. Con molta calma. Non era facile perché la palla era alta. Sta crescendo. Grande intervento di De Martis. E Napoli sta crescendo Pasino. E può essere in questo momento un'arma pericolosa per il Catania. Il vero Monaco ha toccato il pallone verso Martuscello. Che ha la possibilità. Vede che c'è la possibilità di servire Jacopino. Quindi Fini insolitamente a sinistra in questa occasione. Vuole accentrarsi. E poi trova ancora Martuscello. Quindi Grieco. Prova ad andare in verticale verso Liveira. Era un'aggancia. Era ottima l'idea. Grandi minuti e 40 secondi sul cronometro di questo secondo tempo. Possibilità per Grieco. Va a cercare Taldo. Intervento in chiusura. Elegante. Con il petto. E poi la possibilità di guadagnare qualche metro per il Napoli. Ballone toccato da Vinigal. Spazio per Bocchetti. Ancora lo scambio fra Marcolino e Vinigal. Tentativo di andare in verticale. Bravo Fini. Poi vuole recuperare anche la parte di Grieco. Da una mano. Anche Taldo. E Marti si è toccato verso Grieco. Qui non un gran che il tocco da parte di Fini. E il Napoli che prova ad uscire. Non riesce però ad accelerare. Il pubblico vuole andare subito in verticale. Alla fine arriva l'apertura in orizzontale per Martinez. Che poi sbaglia tutto. Ballone che finisce. Dalle parti del portiere Sanzonetti. Poco pericoloso il Napoli. Molto lento in fase di costruzione. Pochissime verticalizzazioni. Tranne alcune di Pasino. Ma da molto lontano. Ha ragione la gente a non essere fino a questo momento soddisfattissima della prestazione del Napoli. Soprattutto in fase offensiva. Scoglio ha ricordato nelle ore immediatamente precedenti alla partita di essere in debito. Ovviamente lui ma soprattutto la squadra con il pubblico. Grande dimostrazione evidentemente di onestà anche intellettuale da parte del tecnico del Napoli. Che però promette per dopo la pausa. Dopo la metà di febbraio. Napoli nuovo. Completamente rodato. In grado di poter puntare a traguardi importanti. Prima di una salvezza tranquilla. Possibilità nuovamente per la portazione di Scoglio. Ma guarda bene il pallone scavalcando Fini Pasino. C'è Stellone poco lontano. La pressione di Martuscello che riesce a creare più di un problema. Qua provano ad andare Bocchetti. Attenzione a Bocchetti che viene fermato. Pallone che termina in palo laterale. Tre giocatori del Napoli in area di rigore. Vedremo se ci sarà la battuta lunga. Gavini Gal che fa cercare la posizione giusta. Fini che prova a dar fastidio. Possibilità per il cross. Che arriva in questo momento. Zeoli che allontana di testa. Può controllare Marco Lin. Che cambia lato. Oliveira. Preziosissima anche stavolta. Poi la nuova possibilità. Posizione regolare. Attenzione. Pasino può provare a mettere in mezzo. La pressione di De Marti su di lui. Pasino si accentra. Si porta il pallone sul destro. Poi in mezzo a tre. Grandissima confusione. Alla fine Zeoli può uscire. Questa era un'iniziativa potenziale per il Napoli. Che forse poteva sfruttarla meglio. Sicuramente. Pasino ha cercato. Avrebbe potuto servire di prima intenzione il pallone in mezzo all'aria. C'era solo solo Stellone. E lo stesso Dionigi. Ha pensato di chiuderla. Attenzione. Attenzione. La bocchietta che va a cercare Stellone. L'intervento da allontanare. Vediamo chi arriva per primo. È il giocatore del Catania. Che può dunque allontanare. Si trattava di Jacopino. Intervento di Dange. Ancora Jacopino. Che può raccogliere il pallone. Ma cercare subito Taldo. C'è stata però la segnalazione da parte di Gabriele. Sarà calcio di produzione per il Catania. Applicazioni. Il tecnico ospite. Il Catania che continua a giocare una buona gara. Riuscendo a fronteggiare piuttosto bene la spinta del Napoli. Che ci sta mettendo davvero una grande tensione agonistica. E tra cui stiamo rivelando un intervento che è costato il giallo al numero 4 del Napoli. Si sicuramente si. Il Napoli sta cercando. Sta spingendo maggiormente. Ma un Catania molto attento. Attenzione a Jacopino. Ma cercare Oliveira. Poi il tentativo di girata. Con la presa. Fermo a terra. Poi si rialza. Taldo. Ma buona opportunità questa per il Catania con la risposta. Buona, buona. I due attaccanti del Catania sono posizionati sempre molto bene. Uno sul primo paolo e l'altro sul secondo. Oliveira ha fatto sfilare il pallone. Non ci è arrivato. Si è presentato Taldo che ha cercato di anticipare D'Angelo. Non è riuscito a dare il colpo di grazia. Però ha avuto anche in questa occasione una buona intuizione. Intanto qui attenzione perché rischia molto il Napoli. attenzione è un momento caldo della gara. Gabriele sta lasciando proseguire il gioco ma credo che possano arrivare ulteriori provvedimenti disciplinari. Intanto la battuta. Pallone che termina direttamente in fallo laterale. Vado alle parti di Jacopino a dire qualcosa. C'è stato un episodio... Sì, Vidigal. Ecco qua, vediamo. Grieco. Eh, c'era, c'era. Che era per Luigi. Vidigal appena ammonito ha toccato la palla. Tra l'altro con braccio alto, molto evidenti. E fra l'altro, insomma, la mia primissima impressione era stata quella di un direttore di gara che avesse letto ai giocatori del Catania, come spesso succede, poter continuare a mantenere il possesso del pallone perché sto dando il vantaggio ma potrebbe arrivare dopo il provvedimento disciplinare. Non è stato così. Attenzione alla possibilità per il Napoli. De Marquez che prova la chiusura. Pallone che viene messo in mezzo. Stellone anticipato, forse anche trattenuto. Non è finita l'intervento sul casino. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli che aveva protestato per un primo intervento su Stellone. Punito il secondo intervento. Non cambia però la sostanza. Sì, sicuramente. Secondo me c'era anche calcio di rigore netto su Stellone ma sono curioso di rivederlo prima di cross in mezzo. strattonata, evidente su Stellone. La palla è uscita sui piedi di Pasino che l'ha stoppata. Se l'è allargata e Grieco ha commesso un fallo, secondo me è evidente. C'era calcio di rigore anche su Stellone. Monaco aveva trattenuto Stellone. Vediamo Pasino. Stoppa la palla, la sposta. Netto, nettissimo. Secondo me calcio di rigore nettissimo. Su questo non deve assolutamente protestare il Catania anche se, a mio giudizio, ha ragione ad essere infuriato sul 10 secondi prima sull'intervento di Vidigal con la mano. Quarto ha morito per il Catania. Sansonetti, calcio di rigore fischiato da Gabriele per l'intervento di Grieco sul suo ex compagno Pasino. Siamo pronti sul punto di battuta di questo calcio di rigore. Un calcio di rigore che può cambiare le sorti della partita del Napoli. Catania che, vi ricordo, un minuto fa ha protestato perché poteva esserci il secondo giallo per Vidigal. Episodio sul quale si potrà discutere a lungo. È pronto Dionigi a calciare il settimo gol in questo campionato. Dionigi contro Sansonetti, parte, è rete. E il Napoli è in vantaggio al sessantottesimo minuto e venti secondi, metà della ripresa, 1-0 Napoli. Calciato benissimo con molti complimenti al Catania che ha messo in campo piuttosto bene che un paio di minuti fa ha protestato, forse ha ragione, per un secondo cartellino giallo che poteva ridurre in 10 il Napoli per l'espulsione eventuale di Vidigal. Ma adesso il Catania, a venti dalla fine, è costretto a inseguire. Sicuramente deve inseguire e lo farà, secondo me, anche in maniera molto frenetica perché è nervoso, si è innervosito per alcune decisioni arbitrali. Probabilmente non meritava questo svantaggio anche se il rigore era regolarissimo. Attenzione ad Oliveira, c'è un passaggio di palla e il tentativo di suggerimento poteva essere davvero pericoloso verso Jacopino. È arrivata la chiusura providenziale da parte della difesa del Napoli. Intanto, grande movimento di Vidigala anche se c'è la segnalazione da parte del collaboratore che poi però è stata corretta dall'arbitro. Evidentemente anche questo intervento era con la spalla secondo il direttore di gara. Possibilità per il Napoli. Dentro c'è Stellone che potrebbe ricevere sull'iniziativa da parte di Pasino che prova ad andare, prova anche la conclusione qui stesso con sinistro. De Martis che mette il pallone in calcio in angolo. Le proteste che vedete sono dei giocatori del Catania all'indirizzo dell'arbitro. Mentre qui arriva il giallo per fini. stanno protestando perché il collaboratore dell'arbitro come vi avevamo detto aveva alzato la bandierina. E aveva alzato la bandierina probabilmente per segnalare un'altra entrata. Vediamo abbastanza... Ecco, esattamente questa. E c'era anche questa. Altro intervento col braccio. C'era netta anche questa probabilmente. Meno evidente di quella precedente. Più difficile da vedere. Secondo me il guardialini l'aveva segnalata e l'arbitro inizialmente l'ha guardato. Ora sta andando a parlare. È un momento comunque importante della gara. Per il momento il provvedimento disciplinare che sono assunti è quello della munizione di fini per proteste. Vediamo cosa decide Gabriele. Mentre sta per entrare Possanzini al posto di Jacopino. Vediamo cosa decide Gabriele. Momento caldo della gara. Insomma le immagini sono abbastanza chiare, abbastanza evidenti. Lo sono state anche cinque minuti fa in occasione di quello che sembrava il secondo fado di mano consecutivo plateale di Vinigal. Tra l'altro Vinigal insomma un giocatore di discreta esperienza la dovrebbe competere. Assolutamente. Tra l'altro recidivo. L'ha fatto una volta molito. La seconda dopo neanche un minuto. E questa tra l'altro dopo che ha visto che l'intervento precedente ha scatenato un putiferio avrebbe dovuto sicuramente evitarla. È stato secondo me graziato in due circostanze di Gala. Fuori Jacopino, dentro Possanzini. Adesso seguiamo il calcio in angolo. Poi andremo a Paola Sogna per sapere qualcosa di più da Bordocamp. Attenzione al pallone messo in mezzo. L'intervento all'allontanare. Poi la possibilità con Fini che va a cercare subito il movimento di Oliveira. Buono l'intervento a chiudere di testa. Poi Martinez che prova a tenere vivo questo pallone. Nuovo colpo di testa. Il Napoli ha la possibilità di controllare. Adesso Bocchetti si appoggia in orizzontale con Marcolin. Adesso la possibilità per Pasino. Numero Pasino ovviamente ha questa specialità. Cioè la capacità è cresciuto di fare cambi di direzione come quello che stiamo per rivedere. Grande giocata. Ammorbidita benissimo la palla. Ha dribblato secco Monaco che è stato costretto al fallo. Ma è cresciuto il giocatore del Napoli e sta facendo perfettamente da collante proprio tra i due reparti. Tra l'altro correggimi se sbaglio dribbling ad altissimo coefficiente di difficoltà perché era praticamente fermo. Battuta del calcio di punizione allontanato le Martis la conclusione di Vidical. Pallone che termina alto di un soffio. Mamma mia veramente che occasione da parte del Napoli. Vidical è stato attento in questa circostanza. Ha seguito la palla uscire dall'area calciato ed è stata toccata quel tanto da evitargli proprio la gioia del gol. La palla ha sferato l'incrocio dei pali. E questo evidentemente è anche l'aspetto psicologico. Napoli cattolato il vantaggio adesso prova galvanizzata addirittura a chiudere la pratica. Pronto Pasino sul punto di battuta di questo calcio all'angolo. Parte col sinistro pallone messo in mezzo e fini sul primo palo non rischia mettendo nuovamente in calcio all'angolo. 7 a 3 il conto dei corner. 16 minuti e mezzo da giocare. Io sono curioso di sapere quella che è stata la reazione di Toshak sui tanti episodi dubbi di questa fase. Ma continuiamo a seguire ovviamente prima l'azione. seguiamo la possibilità per Martinez che prova il cross inguardabile. Sicuramente uno dei venopositivi del Napoli. Forse abbiamo finalmente la possibilità di andare a bordo campo alla Paola Sogna per farci raccontare qualcosa di più. Ci sono state proteste da parte della panchina del Catania sulla decisione di Gabriele? Assolutamente sì Toshak ritiene decisivo evidentemente l'episodio della non espulsione del giocatore portoghese dunque si è molto arrabbiato con questa decisione di Gabriele con il quale peraltro ha cercato ripetutamente un faccia a faccia un confronto che però il direttore di gara ha evitato. Ha ragione Paolo ha ragione sicuramente condizionabile per la partita il non intervento di Gabriele ha i danni di Vidigal sicuramente non bisogna dimenticare che eravamo sul risultato di 0-0 possibilità per il Catania attenzione ad Oliveira numero di Oliveira conclusione Mancini che dice di no ma che giocata grande giocata veramente si è liberato spalla la porta se l'è portata la palla Aldo di sinistro ma si cercano e si trovano moltissimo sempre per via centrali si è superato Mancini che non ha fatto grande intervento e si è fatto trovare pronto la prima occasione conclusione con il salvataggio da parte di Mancini la battuta di questo calcio in angolo pericolo in mezzo un nuovo colpo di testa sarà nuovamente calcio in angolo dall'altra parte per il Catania Catania che dunque reagisce subito sul piano psicologico li vediamo il primo colpo di testa e poi Baldini a mettere in corner nuovo tiro della bandierina parte Fini colpo di testa allontanare possibilità per il contropiede del Napoli prova a spingere Pasino il tocco in verticale a cercare subito il movimento Mattei Martis grande lettura da ultimo uomo senza fallo interviene a recuperare questo pallone poi la pressione di Stellone senza fallo deve aspettare che Dionigi possa tornare dal fuorigioco ma servire Pasino c'è Dionigi davanti Stellone sulla stessa linea dell'ex giocatore del Modena che poi sbaglia nel tentativo di tocco in verticale Fini che prova a ripartire per il Catania Vinigal che ha un pessimo controllo prova ad arrivare per ostacolare Oliveira che però è più veloce ancora Oliveira quindi Grieco la pressione su di lui sarà calcio di punizione per il Catania splendida l'azione di un paio di minuti fa del Catania la prima vera grande opportunità per l'1-1 Oliveira che ha difeso il pallone quasi come un pivot di pallacanestro spalla alla porta ha lasciato a taldo l'opportunità per canciare grande risposta di Mancini ancora il Catania a spingere meno di un quarto d'ora al termine Grieco il suo possesso di palla va in verticale Vinigal che tocca solo per un attimo poi un nuovo colpo di testa da parte di Martuscello alla fine D'Angelo a spazzare via va a cercare Dionigi che difende questo pallone ma in pratica lo consegna al centrocampo del Catania Zeoli possibilità ancora per Monaco si tratta di Gennaro Monaco pallone verso Oliveira in difficoltà qui la difesa del Napoli sui movimenti di Oliveira che provano ad andare in mezzo a tre stavolta però alla meglio la difesa di Scoglio Marco Linde che prova a toccare la pressione di De Martis ora la partita è intensissima intensissima molto bella sotto l'aspetto sotto tutti gli aspetti agonistiche il Catania sta cercando di reagire dopo un momento di disbandamento ha creato un'occasione grandissima molto molto spettacolare con Taldo e le sta provando tutte è ferito è ferito ed ha anche perfettamente ragione secondo me e ci saranno ancora a mio giudizio delle emozioni perché è una partita che può offrire ancora molto intanto c'è un cambio dentro Colasante fuori Martuscello per il Catania che non vuole assolutamente rassegnarsi alla sconfitta anche perché ha mostrato comunque qualità ha mostrato organizzazione può anche recriminare sull'episodio che abbiamo più volte ricordato da parte di Vidigal il Napoli ci ha messo sicuramente una grande tensione agonistica un gran cuore e ha trovato vi ricordo sul calcio di rigore il gol del vantaggio l'intervento su Marco Lin da parte di Fini si ripartirà con il Napoli con un nuovo processo di palla è entrato Alessandro Colasante ex Siena ex Cagliari Romano classe 73 esordio in B il 3 settembre del 2000 con il Siena De Martis l'intervento di testa in anticipo che è stato ovviamente anche per Colasante che è appena arrivato Martinez difende bene questo pallone ma poi sembrava che Zeoli potesse anticipare Vidigal pallone messo in mezzo c'era anche la segnalazione di offside si ripartirà dunque con il Catania in possesso di pallo è un nuovo calcio di punizione intervento molto positivo di Vidigal che in mezzo al campo in fase di interdizione ha disputato un'ottima partita ha cercato di servire Dionigi ma la palla l'attaccante si è fatto trovare in netta posizione di offside inquadratura per Sellone da domani si tornerà probabilmente a parlare di un possibile trasferimento a Palermo con Mascara e Marasco pronti ad arrivare a Napoli forse chissà la trattativa verrà definitivamente congelata staremo a vedere per ora ci sono da vivere questi 11 minuti intensissimi che ci separano dal novantesimo possesso di palla per Fini che ha provato il tocco in verticale voleva il movimento la parte degli attaccanti che non è arrivato buona l'altura la parte della difesa del Napoli qui Bocchetti che va a cercare e a trovare Stellone in mezzo a due poi Grieco solo per un attimo ancora possibilità per il Napoli fuori gioco fuori gioco che viene segnalato e allora nuova possibilità per il Catania con il nuovo arrivato con la Sante che andrà a cercare Fini intervento a spazzare via e adesso ancora un po' di confusione i giocatori lottano su tutti i palloni è un momento importantissimo della partita per il Napoli va a difesa con con tutte le forze e tutte le energie possibili è un risultato troppo importante per la squadra napoletana pronto ad entrare Jaroslav Sedivic il centrocampista classe 1981 esordio il 28 settembre nella sconfitta per 2 a 0 del Catania a Verona mentre intanto qui i sanitari del Napoli vanno a risolvere i problemi muscolari fuori dal campo Fini vorrei un tuo giudizio l'abbiamo già detto più volte mi è sembrata una buona partita sul piano soprattutto della qualità da parte di Fini in particolar modo nel primo tempo nel secondo il primo tempo sicuramente è stato uno dei protagonisti più positivi della squadra del Catania nel secondo tempo si è leggermente assopito non ha più fornito grande spinta ma soprattutto non ha più fornito ha disputato anche un buon secondo tempo ma secondo me non al pari del primo e in questo momento Toschak probabilmente cerca una maggior spinta che Sedivic può lui spera dargli Bocchetti vedete optato per ulteriori cure a bordo campo in questo momento dunque il Napoli 10 contro 11 mancano 9 minuti poi ci sarà soltanto il recupero a disposizione del Catania che vuole evitare questa che sarebbe la nona sconfitta in 10 partite esterne della stagione ma sicuramente rispetto ad altre circostanze nelle quali il Catania sicuramente non era piaciuto da tutta l'organizzazione l'organizzazione oggi quantomeno ci possono essere delle note positive sul piano dell'organizzazione di gioco poi però i risultati nel calcio sono quelli che contano di più e quindi ancora ovviamente minuti da vivere di grande intensità e tra i tanti fermo a terra un altro giocatore del Napoli Napoli in questo momento pratica in 9 Inigar quando si era ancora giù 0-0 nulla invece da dire davvero sull'episodio del calcio di rigore giusta la decisione di Gabriele che ha visto l'intervento in netto ritardo di Grieco ai danni di Pasino probabilmente c'era anche il rigore su Stellone un paio di secondi prima con la Sante ha toccato questo pallone Grieco un po' in difficoltà prova ad arrivare Pasino anche Bocchetti prova a dare una mano Pasino cerca di verticalizzare vuole il movimento di Dionigi attenzione a Dionigi c'è la chiusura pallone che potrà dunque essere spazzato da Zeoli e noi andiamo per un attimo a bordo campo Paolo Sogna soltanto per sottolineare la nuova disposizione tattica del Catania Tosciac ha detto a Possanzini di rimanere alto dunque sarà 4-3-3 eh sì evidentemente vuole una spinta supplementare a questo finale di gara le sta provando tutti anche se Possanzini come caratteristica è un giocatore che predilige partire da lontano quando si trova nella mischia non ha grandissime qualità qui ha cercato di illuminare il gioco del Catania con il suggerimento verso Taldo ma Martina si è fatto buona guardia pallone che potrà essere recuperato adesso la salvatore Monaco che va a servire direttamente il portiere Sanzonetti e poi si può ripartire Gennaro Monaco con il nuovo possesso di palla per il Catania che vuole continuare a spingere 7 minuti al termine ancora possibilità per la squadra ospite prova a lavorare questo pallone Sedivets quindi Zeoli ancora Sedivets e qui si lascia completamente scavalcare dal pallone la rimessa laterale sarà del Napoli si ha cercato di farla sfilare per probabilmente poter partire con la palla al piede la palla è andata fuori e il Napoli ha occasione attenzione possibilità per Vinigal attenzione sia Dionigi sulla sesta linea c'è anche Stellone che sta arrivando Vinigal il tocco dentro la possibilità conclusione che termina sul fondo c'è stata però la deviazione ancora una volta il Napoli ha perso anche 8 occasioni da Martina Sappasino il cross in mezzo pericolo colpo di testa che termina a lato ancora la disperazione per Dionigi mani fra i capelli per lui e lui ad anticipare Vinigal i due erano vicinissimi qui torniamo ovviamente in diretta mentre intanto è fermo a terra Grieco va restituire il pallone al Napoli ultimi 5 minuti di gara è pronto ad andare Martina e sarà rimessa verso una trentina di secondi che teoricamente il direttore di gara dovrebbe recuperare perché c'è stato il cartellino giallo dunque Napoli cercare di raffreddare la partita di non dare il ritmo di togliere intensità al Catania che ha reagito però non riesce a dare continuità alle proprie azioni è pronto Zeo nella rimessa laterale la pressione su di lui da parte di Basino poi si rifugia nel tocco verso Salvatore Monaco adesso c'è Naro Monaco c'è la pressione sempre da parte di Basino riesce in qualche modo a servire Zeo poi controlla Seedimetz c'è grande pressione da parte del Napoli che alla fine con Dionigi riesce quantomeno a toccare questo pallone se la stanno anche il press di Stellone rischia ancora il Catania alla fine con la Sante riesce ad aprire lateralmente allora seguiamo l'azione del Catania si fa vedere Possanzini molto basso il tocco di Napoli e Catania sicuramente stanno meglio quelli in campo eh si da questo punto di vista non ci sono dubbi intanto arriva la segnalazione del collaboratore di Gabriele ma tutto il calcio di Puglia mi dice Gagnale Pittorino dal coordinamento allora 4 minuti più i due che mancano al termine della gara ci sono dunque ancora 360 secondi a disposizione del Catania c'è Griego in possesso di palla prova a guarnare qualche metro e va a servire Possanzini l'ex giocatore di Reggine Samp due su di lui poi in difficoltà alla fine Griego sarebbe Colasante ma Griego vuole andare più in profondità a cercare il movimento da parte di Oliveira e tanto alla fine la conclusione da dimenticare da parte di Colasante Mancini poi difende questo pallone stellone Napoli prova ad uscire punto di riferimento davanti è Dionigi che riesce ad anticipare Gennaro Monaco ma non il recupero da parte di Salvatore Monaco poi Colasante che può provare a spingere ancora per il Catania ma sbaglia un tocco apparentemente elementare Griego si è rallungato il pallone stellone adesso anche un po' di stanchezza Griego prova ad arrivare su questo pallone e a tenerlo in campo Oliveira continua a dare una mano tocco prescito per Possanzini ancora Oliveira possibilità per Oliveira arriva la chiusura alla fine Mancini che spazia via nella zona di Zeoli Pasino che va a disturbare il numero 3 del Catania arriva il chieschi arbitrale calcio di punizione per gli ospiti ce la stanno mettendo tutto ma è difficile perché il Napoli è posizionato molto bene e ha difeso di un risultato importantissimo gli spazi sono ridottissimi il Catania sta spingendo ma non riesce a trovare sbocchi per arrivare al tiro Griego il tocco in orizzontale riceve questo pallone Colasante attenzione a Colasante è Zeoli che ha seguito il pallone e va a ricevere a sinistra il cross da parte di Zeoli Mancini senza difficoltà raccoglie questo pallone ed è una liberazione per i tifosi sicuramente sì molto sicuro deciso ha visto la palla alta è uscito con molta sicurezza e ha spento un'occasione importante per il Catania una delle ultime occasioni per il Catania 4 minuti ancora da giocare siamo entrati nel tempo di recupero buono qui l'inserimento da parte di Bossanzini che ha recuperato questo pallone e allora Colasante che può provare a far venire avanti i suoi lo scambio con Griego c'è sempre Zeola a sinistra ma c'è sempre la ghilezione a centrocampo da parte dei giocatori del Napoli che disturbano il possesso di palla del Catania sicuramente sì difensori del Catania non sono molto dotati tecnicamente la palla deve sempre passare dai piedi di Griego del Catania a questo punto deve provare anche a buttare il pallone in mezzo all'aria deve cercare qualche giocata anche fortuita trova Colasante non c'è davvero più tempo da perdere per il Catania tre minuti Griego ha cercato il tocco corto ma verticale verso Bossanzini che sarà fermato si riparte ancora da Colasante la pressione su Colasante messo giù Centaldo ci saranno Gennaro e Salvatore Monaco c'è ovviamente Oliveira la battuta del calcio di punizione anche Zeoli in mezzo non c'è stata la deviazione motivo delle proteste che state vedendo da parte dei giocatori del Catania stiamo rivedendo e ancora Vidigal per lui c'è sempre lui protagonista calcio d'angolo negato al Catania Vidigal ha toccato per ultimo la palla e anche in questo caso Gabriele non ha visto come l'ho detto il giocatore più lontano non è il numero 20 ma il numero 30 l'uscita dal campo dunque cambia la sostanza perché esce un trequartista come Pasino adesso il Napoli ha quattro difensori possono fare tutti e quattro difensori centrali Troise, Sabino D'Angelo e Baldini 50 secondi dal termine della partita ma a termini di regolamento si dovrebbe recuperare credo almeno un altro minuto il direttore Palmas dunque fuori Palmas fuori Toschak e adesso Stellone che difende questo pallone sulla pressione di Sedevitz meno di 30 secondi al termine del quarto minuto di recupero però ci potrebbe essere un supplemento perché c'è stata la sostituzione del Napoli fuori Pasino dentro Troise c'è stato il tempo perduto per l'espulsione di Toschak che continua a seguire la partita allontanandosi dal campo davvero con grande lentezza pallone verso Oliveira trova Oliveira spalla la porta la sua specialità può cercare il tocco verso Tando c'era comunque la segnalazione di offside da parte del collaboratore di Gabriele c'era la segnalazione di offside però c'è stata un'altra buona giocata di Oliveira che ha disputato secondo me una partita molto positiva è molto tonico reattivo veloce sicuramente sarà un'arma importante per il Catane una distanza in qualche modo visibile fra l'ultimo difensore e l'attaccante qui siamo proprio al limite recupero da parte del centro capo del Napoli e tre punti che arrivano per la formazione di Scoglio dopo 4 minuti e 50 secondi di recupero il Napoli può festeggiare una vittoria assolutamente sofferta ma preziosissima che da tre punti